Salve a tutti gli affezionati dal canale EarthLive 2.0. La storia che sto per raccontarvi ha qualcosa di clamoroso. Il fisico-quantistico DeepPressed, un componente di spicco della UAP Expeditions, afferma di aver avuto un contatto con esseri non umani. In un lunghissimo Twitter, Deep ha deciso di condividere e confidare la sua esperienza a tutto il mondo. Di seguito vi leggerò la trascrizione completa del suo Twitter, ma dopo aver lanciato la sigla. È il giorno del ringraziamento e questo sarà un post piuttosto complicato. Non è oggettivamente una buona idea per me scriverlo, dato che ogni scienziato ha un'etichetta sulla schiena nella comunità dei UFO, giustamente, e dato che sono ancora un amministratore delegato nel campo della tecnologia. Verso l'inizio di quest'anno, primo febbraio, ebbi l'esperienza più assurda e rivoluzionaria della mia vita. Accadde in pieno giorno alle 9.40 del mattino a casa mia. Dettagli più specifici saranno resi noti un'altra volta quando avrò una migliore rete di sicurezza e potrò espandermi di più. Per dirla semplicemente, ero paralizzato contro la mia volontà, non potevo muovermi e vidi tre entità. Potrei essere un pazzo? Sicuro? Penso di esserlo? Ovviamente no. Potrebbe essere stata un'allucinazione? Non posso provare che non lo fosse o non sarei così preoccupato di condividerlo. Queste entità proiettavano un centinaio e migliaia di frasi e paragrafi in una lingua che sembrava un connubio di geroglifici giapponesi ed egiziani. Ero terrorizzato dal fatto di potermi muovere a malapena ed ero completamente incredulo di fronte a ciò che stava accadendo. Andavo avanti e indieto tra di me, convincendomi che stavo avendo una sorta di crisi epilettica o che ero incosciente e che non era possibile che ciò stesse accadendo, temendo davvero che tutto fosse più reale della realtà. Avevo paura di non potermi muovere, di non avere il controllo della situazione, ma riuscivo a pensare perfettamente. La mia mente correva. Queste cose sono davvero reali? Sta succedendo davvero in questo momento? La mia famiglia e i miei amici sono pronti per questo semmai dovesse succedere a loro? Mi uccideranno? Come faccio a dire che non voglio morire e che non sono una minaccia? Allo stesso tempo stavo cercando di dare un senso ai simboli. Era incredibile, frustante, che non riuscivo a capirli o tradurli. Le frasi e i paragrafi continuavano a girare rapidamente e l'unica parola in inglese che vidi, almeno tre volte, era la parola DNA. Questo significa che chiunque o qualunque cosa stesse facendo questo, anche se è il mio cervello, capiva chiaramente l'inglese. Ma stava scegliendo di non usarlo per tutto. L'immagine della mia stanza sarebbe scomparsa se avessi alzato un po' la testa, ma era difficile farlo e mi sarei sentito estremamente nauseato. Quando scomparve, mi sono reso conto che non ero più nella mia stanza, ma da qualche altra parte. Se avessi abbassato la testa, l'immagine della mia stanza sarebbe tornata di nuovo e i simboli sarebbero tornati. Decisi di smettere di combattere ciò che stava accadendo e per qualche motivo non provavo più paura, ma fascino totale. La sensazione di paura tornava di tanto in tanto, ma a questo punto osservavo con attenzione tutto ciò che stava accadendo. Il coloro dei loro abiti, le loro dimensioni, i loro manierismi, la sensazione che il mio umore fosse il rapido mutamento, eccetera. Dopo un certo punto, uno di loro saltò sopra di me e lentamente camminò verso la mia testa. Poco prima di farlo, era a terra vicino alla mia tv e mostrava questi bellissimi oleogrammi dorati in mezzo alla tuta. Anche questi scintillì d'oro ci saltavano intorno. Quando vidi questo, immediatamente alzai gli occhi e dissi «Questo è un fottuto scherzo». Cosa c'è che non va in me? Che cosa sono queste cose? Perché, vi assicuro, non sembrava quello che vi aspettereste da un essere terrestre. Queste cose sembravano di natura eterica, difficile da descrivere. Una volta che fu su di me, camminò così lentamente e con cautela che mi sentì trattato come un animale. Sentì questa strana luce colpire la sommità della mia testa e improvvisamente fui colpito dal sentimento più felice ed euforico che abbia mai provato. Farò del mio meglio per descriverlo. Sembrava che l'universo fosse senziente e consapevole della mia esistenza. La sensazione era di calore e nostalgia. Era come un promemoria che è lo spazio brulica di vita e che siamo tutti legati l'uno dall'altro in virtù dell'esistenza. Uso la parola unità che prima non significava niente per me. Dopo pochi minuti di esperienza, fui messo KO e persi conoscenza. E mi svegliai istentaneamente. Non ero passato un minuto da quando iniziò l'esperienza. Iniziai ad alzarmi e mi guardai intorno completamente scioccato da quello che era appena successo. Non potevo credere che il tempo non fosse passato. Non pensavo che quello che era successo potesse essere autentico, ma oggi lo interrogo meno di quanto non lo facessi quando successe per la prima volta. Tutto questo è successo in un periodo interessante della mia vita. Avevo passato circa tre mesi nel campo dell'ufologia ed è per questo che dubitai dell'esperienza, dato che ero di parte. Stavo discutendo se cancellare tutti i mi Twitter sull'argomento perché stavo iniziando a pensare che si trattasse di una grande tuffa e non ero soddisfatto per la mancanza di prove concrete. Questo mi spinse oltre il limite e mi fece raddoppiare la mia osservazione. Decisi che avevo bisogno di trovare più persone che avessero queste esperienze. Così entrai in contatto con il gruppo C5 di Toronto che lasciai dopo due sezioni perché uno dei ragazzi che lo gestiscono era completamente pazzo. Prenotai un biglietto per la conferenza della SCU, la Scientific Coalition for UAP Studies e il mese successivo avrei incontrato El Putov e Liu Elizondo. Avevo bisogno di sapere. Avevo bisogno di sapere chi erano queste persone, cosa stava succedendo e se fossi diventato ufficialmente pazzo. Molti di voi mi hanno seguito dopo la Scientific Coalition for UAP Studies imparando sempre di più. Dopo questa esperienza la mia vita è diventata sempre più strana. Molto ma molto strana. Prima di tutto un'altra cosa che accadde qualche settimana prima fu il suicidio di qualcuno nella mia cerchia familiare. Non eravamo così intimi ma guardavo lui come un parente. Scoprire della sua morte mi traumatizzò. Stava influenzando il mio lavoro e soprattutto le battaglie interiori tra il denbunker e credenti che non mi hanno aiutato. Eppure dopo l'esperienza mi resi conto che il senso di unità non era scomparso, la parte dell'euforia certo, ma stavo meglio mentalmente. Non avevo più ansia, depressione o stress o traumi. Era impossibile provare paura. Non potevo letteralmente provare paura. Non importa quanto ci provassi. Ho provato amore per tutti ed è stato molto difficile farmi arrabbiare. Quando accadde non durò molto a lungo e passò velocemente. Era obiettivamente la versione migliore di me stesso. Anche le mie credenze in Dio sono cambiate quasi all'istante. Sono passato dall'ateo all'essere spirituale. Ho iniziato a sognare di vedere l'interno di alcuni degli UAP di cui sentiamo parlare così comunemente. Per lo più di dischi e sfere. Alcuni dei personaggi dei miei sogni parlavano solo attraverso la telepatia. In vita mia non avevo mai sognato cose del genere fino a quest'anno. Sperimentavo anomalie elettriche impossibili ovunque andassi le prime due settimane dopo l'accaduto. Ho iniziato a innervosirmi perché sentivo di aver perso un po' del mio libero arbitrio. Non mi piaceva che questa nuova mancanza di paura, l'amore, l'incondizionato e così via, non venisse da me. Non pensavo di essermelo guadagnato. E che non era normale qualunque cosa mi stesse succedendo. Ho pensato di fare una risonanza magnetica per vedere quale parti del mio cervello erano state intaccate per farmi sentire in questo modo. Era innaturale ma estremamente buono e liberatorio. Se il mondo intero sperimentasse questo stato d'animo in cui mi trovavo saremmo saliti di livello durante la notte. Sono convinto che l'odio, la paura, la rabbia, la depressione e l'ansia sarebbero scomparsi dalla nostra società durante la notte. Dopo un paio di settimane questo sentimento stato d'animo diminuì fino a quando tornai nuovamente al mio io normale. A volte vorrei poter tornare al modo in cui le cose erano quelle prime due settimane dopo l'esperienza. Ma la cosa migliore successiva è con uno sforzo consapevole dove posso facilmente tornare a quello stato d'animo. La differenza è tornare. Era uno sforzo inconscio da parte mia. Ebbi il mio primo avvistamento UFO poche settimane dopo l'accaduto. E da allora ne ho avuti quattro in totale. Due dei quali registrati. E per tre, quattro volte c'erano altre persone con me. Quindi, sì, sono io. La mia vita è cambiata in meglio. È diventata molto più complessa e mi ha portato dove sono oggi. Non so cosa sia successo. Ne posso provare che questo non sono io e che sono impazzito. Passerò qualsiasi test psicologico. Nessun problema. Ma ci sarà sempre il dubbio il che è giusto. Ma sono sempre grato per l'esperienza. Sono grato per tutti quelli che ho incontrato dall'ora in poi. Ci sono innumerevoli persone che ammiro e mi piacciono qui. Credo che risolveremo questo mistero e che l'umanità ha davanti a sé un incredibile futuro. Buon ringraziamento a tutti. Queste le parole scritte sul post di Twitter del fisico quantistico, che nella sua bizzarra esperienza possa in qualche modo farci riflettere sul fenomeno UFO ed estre terrestri. Grazie per l'attenzione. Vi invito a iscrivervi al canale. E noi ci risentiamo alla prossima. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione.